Ben trovati amici di Matera Social, Bar Sport è andato in vacanza ma siamo pronti con la Summer Edition, una Summer Edition che parlerà degli abbonati del Matera Calcio e quindi abbiamo chiesto ai nostri tifosi se si abboneranno per la prossima stagione. Salve a tutti, sono Ciro Carrato, un ex giocatore del Matera, porto Matera nel cuore, quindi spero e mi auguro che tutti quanti voi andate ad abbonarvi, andate ad abbonarvi tutti per sostenere la squadra e stare vicino a tutti, quindi forza Matera, sempre e comunque e niente, non ho nulla più da aggiungere. Un caro saluto a tutti i tifosi che mi hanno coccolato in quel di Matera, lo ricordo con affetto e nulla, un saluto, un saluto a tutti, ciao. Ciao a tutti da Milano, sono Giuseppe Basile, materano milanese da ormai ben 20 lunghi anni, anch'io prossimo abbonato al Matera Calcio 2018-2018, consapevole che probabilmente vedrò più partite in trasferta che in casa, ma in Matera non si discute, in Matera si ama, in Matera gioia, divertimento, è una malattia che mi spinge ad abbonarmi a prescindere dai risultati. Sappiamo che la società è in difficoltà, sappiamo che il campionato sarà probabilmente uno dei più difficili negli ultimi anni, ma la fede ci deve accomunare nel raggiungimento di un importante obiettivo, non dobbiamo avere grosse pretese, ma difendere estremamente la categoria e poi toglierci due soddisfazioni, dare due suppostoni ai cugini di montagna sia l'andata che l'aritore, perché no? Forza Matera. Buongiorno a tutti, sono Pino Caserta, ho avuto la fortuna di indossare la maglia del Matera nella stagione 99-2000, vincendo un campionato e contribuendo a portare la società nelle categorie che li competono. Volevo invitare tutti i sostenitori ad abbonarsi per sostenere la squadra, perché passano i giocatori, passano i presidenti e le società, ma i tifosi restano. In bocca al lupo a tutti e Forza Matera! Ciao, sono Mario Di Pede e anche quest'anno prometto di abbonarmi al Matera Calcio, alle partite interne al 21 settembre. Lo faccio anticipatamente proprio per l'amore di questi colori, i nostri colori bianco-azzurri, anche perché quest'anno abbiamo il derby, ragazzi. Quindi fate anche voi, come me, abbonatevi, 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 per dar forza anche alla nostra società. Ciao a tutti! Buongiorno a tutti, io sono Colin Spanfield, ex calciatore del Matera. Faccio questo video perché voglio ricordare a tutti i materani di fare un abbonamento per questa straordinaria squadra. ho passato una nostra straordinaria a Matera e il Matera mi sarà sempre nel cuore. Quindi per arrivare a un certo livello, il livello che merita il Matera, il vostro aiuto è molto importante. Quindi abbonatevi, abbonatevi sempre forza a Matera, Matera nel cuore. Matera sarà sempre una delle mie squadre del cuore. Ho passato un anno straordinario, quindi fate l'abbonamento perché quella squadra merita e meriterà sempre un parco scenico molto più importante. Un grande saluto, un forte abbraccio e a presto. In bocca al lupo per tutto e abbonatevi perché il Matera se lo merita. Buona giornata.